Noi non possiamo pensare che la promozione di impresa cooperativa trovi gli stessi metodi degli anni 2000 e degli anni 80, contesti diversi necessariamente pretendono risposte diverse. Allora noi abbiamo cominciato a lavorare con le università, con scuole superiori, stiamo ricostruendo quella filiera che non è una filiera facile da ricostruire, ma necessaria per cercare di far sì che nei luoghi di aggregazione giovanile, che sono principalmente, siccome siamo un'organizzazione che ha una sua dimensione, poi dobbiamo fare anche delle scelte, quindi io vorrei essere alzo zero dappertutto, però poi devi scegliere quelle 4-5 scelte strategiche e dici lì facciamo l'investimento, perché poi non è che puoi esserci e l'anno dopo non esserci, deve essere una scelta di mandato, non può essere una scelta estemporanea, poi luoghi abbiamo fatto, abbiamo partecipato al festival dei giovani che si è finito a settimo, per dire degli eventi dove ci sono i giovani che però su cui si può interfacciarsi, non è che vado all'evento musicale, però principalmente sono le scuole, i nostri riferimenti, in particolare l'università, il servizio civile. Noi siamo passati in due anni da 80 ragazzi che abbiamo ospitato nei progetti di servizio civile a 200 ragazzi, vogliamo puntare a 250, un po' perché intanto il 30% di questi trova occupazione nelle nostre cooperative e intanto perché è un'occasione di incrocio di questi ragazzi all'interno di progetti che coinvolgono prevalentemente le nostre cooperative sociali.